3-400 mila euro di prodotti Ciao ragazzi, sto sbanca Adesso le faccio conoscere il locale più bello d'Italia Il mio Victor Lounge, vieni con me Dammi il ghiaccio Oh Peppe Intanto ti faccio vedere un bancone 12 metri Duble fake Guarda che roba Vetrina champagne refrigerata Con una capienza di 3-400 mila euro di prodotti Ma che roba Venite con me per farci vedere un'altra cosa Questo invece è lo show cooking Che chiunque può mettersi qui alla finestra E guardare tutto ciò che fanno i cuori Vieni dentro Tutti leggono Come ho detto la cucina sta qua La tigre sta qua Dammi la meccata Qui c'è la cartina rossa che fa Qui va fuori super pezzi Esterno, esterno, doppio attento Privé Il più bel locale Tra i più bei locali d'Europa, d'Italia Fatta di sole, dai c'è carino Fra un po' lo replico in tutta l'Italia Taglia Iscriviti al canale Taglia ��